Un pugnale militare, non un semplice coltello da cucina, quello trovato nelle tasche di uno dei tre costovari arrestati nel corso del blitz antiterrorismo in centro storico a Venezia due settimane fa, a riprova della reale pericolosità dei componenti di quella che gli inquirenti ritengono sia una cellula jihadista. Il dato è emerso in seguito al deposito degli atti che la procura lagunare ha messo a disposizione del Tribunale del Riesame che il 19 aprile dovrà decidere sui ricorsi presentati dai tre indagati maggiorenni, Ariane Babai, 27 anni, l'ideologo del gruppo, Daker Zai, 26 anni, e Fisnit Kbekai, 24 anni. Tra gli abiti dei tre arrestati, Digos e Carabinieri, che conducono le indagini coordinati dalla procura antiterrorismo dal PM Francesca Krupi, hanno trovato anche un taglionino. Sono elementi che supportano l'ipotesi che i tre siano pericolosi e devono restare in carcere, elementi che i giudici del Riesame dovranno valutare insieme alle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche in cui gli arrestati dimostrano interesse e adesione alla jihad, apprezzano l'impiego di armi da taglio per combattere gli infedeli occidentali, versi quali provano odio, condividono le azioni di ISIS esultando sia per gli episodi in Siria che per gli attentati in Europa. Gli inquirenti proseguono nell'analisi della mole di documenti e supporti informatici sequestrata durante le perquisizioni degli appartamenti in centro storico frequentati dai tre, ma anche nelle abitazioni degli altri kossovari già espulsi perché vicini e l'arrestati. Non va dimenticato che uno dei tre è responsabile anche di una violenta aggressione e danni di un professionista veneziano che fu affrontato tre anni fa dal giovane kossovaro brandendo un coltello da cucina.